Dopo un anno il ritratto Duomo di Antonello da Messina torna a Pavia, il Castello Visconteo. L'opera icona dei musei civici pavesi rientra accompagnata da un altro grande capolavoro del maestro messinese, il ritratto Duomo. L'esposizione del Castello Visconteo si intitola, oltre lo sguardo, volti e ritratti nella pittura italiana tra 4 e 500, Antonello da Messina a Pavia, ed è stata inaugurata giovedì 5 dicembre. Diciamo che questa mostra è lo spunto per iniziare un periodo di rinnovamento per la città, fortemente voluto da questa amministrazione. Il Castello è un fiore all'occhiello della città, ha bisogno di interventi, ha bisogno di una serie di cose, però conserva importanti capolavori. Quindi abbiamo questi due ritratti molto interessanti. Abbiamo pensato di abbinare a questi due ritratti un discorso ancora più aperto. Infatti il titolo della mostra è Oltre lo sguardo, perché anche noi vogliamo andare oltre lo sguardo. Abbiamo raccolto quindi una serie di opere di proprietà dei musei, dove veramente si vuole praticamente raccontare quello che è il percorso del ritratto fra 4 e 500. Quindi da semplice ritrattistica, dove di fatto inizia con la raffigurazione religiosa, quindi questi volti un po' sacrali, dove l'espressione è lasciata in un secondo piano rispetto a quello che è il paesaggio, alla costruzione dell'opera, fino ad arrivare pian piano al ritratto vero e proprio, quindi alla ritrattistica richiesta in quegli anni dai nobili, da tutti quanti, fino ad arrivare ad Antonello da Messina. E quindi qui abbiamo voluto inserire anche Leonardo in questo discorso un po' di sinergia, di affinità, di intenti, quello che sono un po' i moti dell'anima. Quindi il ritratto enigmatico. Chi sono questi personaggi? Chi è la Gioconda? La cosa che balza gli occhi in queste opere è questo sorriso, un po' ironico, canzonatorio, ma che nel corso dei secoli ha posto dei grandi interrogativi. Quindi Antonello da Messina da un lato, Leonardo dall'altro, sono riusciti ad imprimere nella tela e nel ritratto qualcosa che va oltre la ritrattistica, proprio il sentore dell'animo umano. E questa è una cosa, secondo me, molto importante quando un artista riesce a trasmettere qualcosa che perdura nel tempo, quindi non una semplice raffigurazione. Quindi riteniamo che questa mostra, che ospita fra l'altro alcune opere, tipo il Bergognone, eccetera, dove alcuni frammenti sono anche ripresi poi in questa installazione multimediale dei Carmachina. Per cui abbiamo veramente voluto creare un ponte fra antico e moderno, quello che la città vorrà essere nel futuro. Quindi la contemporaneità che non dimentica il passato e la sua storia.